Prima se volevo un finanziamento dovevo andare in banca, ma ora c'è Olipay. Pago la mia vacanza in 5 o 10 rate senza interessi o commissioni, direttamente dalla mia carta di credit. Naviga sul sito e scopri quali hotel ti aspetta in tutto il mondo. Ma non ditelo a quelli di Booking. Bye now, pay later, con Olipay.